Perché questo ci alzeremo in piedi, che sentirete condivare ad ogni strofa, è un popolo che ci ripetiamo nel cuore sempre. Io da quando ho fatto questo volontariato ormai sono voluto 20 anni, ma mi piacerebbe che da stasera potesse diventare anche un po' il nostro ci alzeremo in piedi. Sempre Giovanni Paolo II. Ci alzeremo in piedi ogni volta che la vita umana viene minacciata. Ci alzeremo ogni volta che la sacralità della vita viene attaccata prima della nascita. Ci alzeremo e proclameremo che nessuno ha l'autorità di distruggere la vita non nata. Ci alzeremo quando un bambino viene visto come un peso o solo come un mezzo per soddisfare una emozione. E grideremo che ogni bambino è un dono unico e irripetibile di Dio. Ci alzeremo quando l'istituzione del matrimonio viene abbandonata all'egoismo umano. Riaffermeremo l'indossoribilità del vincolo coniugale. Ci alzeremo quando il valore della famiglia è minacciato dalle pressioni sociali ed economiche. Riaffermeremo che la famiglia è necessaria non solo per il bene dell'individuo, ma anche per quello della società. Ci alzeremo quando la libertà viene usata per dominare i deboli, per dissipare le risorse naturali e l'energia, e per negare i bisogni fondamentali alle persone e reclameremo giustizia. Ci alzeremo quando i deboli, gli anziani e i morenti, vengono abbandonati in solitudine e proclameremo che essi sono degni di amore, di cura e di rispetto. Giovanni Paolo II.